Ed ecco così il caos indistinto, il matto, il caos da cui si forma poi il bagatto, il demiurgo, la nascita dei mondi e questa è la papessa, la dualità, la nascita del principio duale di separazione e 3 l'imperatrice, l'avvento triditario del mondo, 4 l'imperatore, la cultura e il potere che si assisi sul loro primo ordine antropocentrico, vedete la sfera del mondo, 5 il papa, la nascita comunque dei culti, dei miti legati alla religione, 6 l'innamorato, Eros, dio della follia che interferisce e dà predominio comunque alla parte istintuale dell'uomo, il carro, il primo procedere delle civiltà ambivalente, due sfingi che train in direzioni diverse oppure riescono a trainare il carro in una direzione lineare, quindi l'avvento diciamo di una civiltà su un'altra, la giustizia, la nascita della legge, il rispetto delle norme per i primi popoli, l'eremita, il cammino solipsistico dell'essere, l'affrancamento dalle regole, la ricerca spirituale individuale, la ruota della fortuna e questo è il principio prevalentemente medievale rinascimentale dove comunque si alternano le sorti degli imperi e delle fortune dei grandi uomini e di tutti gli uomini in genere, la forza, la temperanza, il culto della bellezza che domina gli istinti, quindi un primo radicamento dell'umanesimo, dell'uomo e della bellezza come centro della ricerca spirituale, l'appeso, ciò che contraddice quanto abbiamo appena detto, che tant'è che prevede la morte, ciò che falcia le teste dei re e quindi poi 14 la temperanza, la capacità ossia del sovrano, del monarca, dell'uomo di potere di riuscire in qualche modo a governare senza essere assolutamente il preda del brutale indistinto, ma la tentazione del diavolo la fa da capolino e quindi le eresie e quindi i processi inquisitori e così la torre, la torre di Babele che continua a crollare quando l'uomo sfida il fato, il destino e poi ancora l'armonia delle stelle dopo il crollo, il risanamento che conduce al potere mercuriale della luna e quindi la capacità di ricostituire le forze oscure anche oltre che più profonde dell'inconscio che trionfano nel sole, ossia nella capacità di riscaldare i cuori degli umani alla luce di una nuova centralità dell'antropos e quindi il giudizio finale, tutti vengono chiamati a rispondere della propria iniziazione nel mondo e là dove si riesce, ecco la quadratura del cerchio, il mondo e questo è un percorso così al volo sull'ordine degli arcani maggiori dei tarocchi.